Ora basta. Che cosa avete da dire, signori miei? Scusi, Madame Carré. Sì, scusi, Madame Carré. Per? Per esserci concentrati l'uno sull'altro invece che sulla danza. Potete andare. Il mio bambino comunque era meglio. Non puoi parlare sul serio. Il mio può fare sette pirouette a solo dieci anni. È talento puro. Sì, però era distratto. Il mio ha la concentrazione di un ninja. Oh, grande lezione. Sì, sì, la porterò sempre nel cuore. E cosa hai fatto? Non dovevi toccarlo. Ma se non mi hai mai tolto gli occhi di dosso. Quindi funziona. E se fosse l'unica chance di trovare Henry? No, non puoi farlo. Senza codici andrai in prigione anche tu. Ma noi abbiamo i codici e sappiamo che tu e Frank fate il doppio gioco. Cosa? Ines ha i codici da tempo. La mia amica è più furba di voi. No, aspetta! Andiamo! Harry! Lena! Mi dispiace tanto. Va tutto bene. Va meglio ora. Come sei arrivata qui? E come usciremo? Non lo so. In realtà non ci ho ancora pensato. Almeno adesso sai che cosa si prova. Voglio che torniamo a casa insieme. Per casa non intendi il 1905, vero? No, non ricominciare. Siamo nella prigione del tempo. Ciò che conta è farti uscire da qui. Io vorrei chiedessi al mio mondo almeno una possibilità. Dai, Lena, ci ho provato. Sai che ci ho provato? Però mi sento sempre fuori posto lì. E poi mi sento fuori posto con te e i tuoi amici. Cioè, spiegami. Sei diversa. Certo che sono diversa. Ho viaggiato attraverso il tempo fino a un altro secolo. Vorrei che potessimo stare insieme come una volta. Beh, io no. Non sono pronta.